Il 12 agosto 1986 a Galatina Lecce nasceva Alessandra Amoroso. La cantante ha raggiunto il successo nel 2009, vincendo Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 9 album, esordendo per 7 volte alla prima posizione. 3 milioni di copie certificate dalla Fimi e dai fino a dicembre 2023 e ancora 11 Seat Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards e moltissimi premi. Due volte vincitrice di Amici nel 2009 e poi nel 2012, per la versione Big in cui superò in finale, con il 52% di voti, Emma Marrone. Il premio più grande? Un pubblico fedelissimo che, a distanza di anni, continua a seguirla, è bello essere cresciuti insieme. Vedere qualcuno che prima aveva l'apparecchio e ora è ormai adulto, qualcuna che adesso è incinta o mi fa conoscere i propri figli, ha detto più volte lei durante le interviste. Ma come mai Alessandra è riuscita a creare questo legame con i fan? E come mai, a distanza di anni, riempie ancora i palazzetti, e non solo, visto che lo scorso anno si è esibita a San Siro, la seconda donna italiana dopo Laura Pausini? Dai tempi di Immobile fino a oggi con Mezzo Rotto, Fit, Big Mama, la cantante salentina è riuscita a creare un rapporto speciale con i fan, che ha da sempre chiamato il Big Family. Un rapporto anche umano, dai firmacopie ai raduni, da sempre Alessandra si è donata a loro, che l'hanno ricambiata con amore e affetto. A dispetto di quello che potrebbero pensare in molti dopo una polemica social che la investì, in realtà Alessandra Amoroso è sempre stata molto vicina ai fan, soprattutto a quelli meno fortunati. Nel 2018, infatti, ha fondato un Big Family Onlus, associazione a scopo benefico nata dal desiderio di Alessandra Amoroso di sostenere piccoli e grandi progetti dedicati a chi è più in difficoltà. Ma potrebbero essere molti gli esempi di generosità e disponibilità della cantante verso i fan. Tanti, tantissimi che la seguono come fosse il primo giorno. Musicalmente, invece, la cantante è riuscita a riempire un vuoto che si era creato all'epoca, quando mosse i primi passi in tv. Erano gli anni di giovanotti, con Ate, Giussi Ferreri, Tiziano Ferro, alla mia età, indietro, gli zero assoluto, per dimenticare. Oltre a tanta musica straniera, Lady Gaga, The Black Eyed Peas. Mancava, effettivamente, una voce femminile potente e che interpretasse della ballad. Con quel timbro, con quelle note, e anche molto alte. Per anni, infatti, Alessandra Amoroso ha interpretato brani strappalacrime, drammati. Da stupida a sul ciglio senza far rumore, passando per le stranei a partire da ieri e difendimi per sempre, Amoroso ha raccontato amori finiti, attese, sentimenti strazianti. E lo ha fatto con una voce potente, un timbro originale e assolutamente distinguibile dagli altri. Un fatto, questo, che adesso sembra assolutamente impensabile. Ora siamo nell'era dell'autotune, che non deve essere demonizzato in modo totale ma neanche bisogna farne un uso eccessivo, in cui sembra che chiunque possa cantare. Non che 15 anni fa non fosse così. Intendiamoci, Alessandra Amoroso non è Giorgia, come non è Elisa. Ma ha lavorato sodo per costruire il successo che ha avuto e che continua ad avere meritatamente. Ha studiato, si è fatta consigliare, è cambiata, e anche esteticamente, in modo quasi frenetico e talvolta non azzeccato. Ha commesso errori, il tentativo in Latino America con canzoni in spagnolo forse lo avrebbe potuto evitare, si è presa del tempo quando è stato necessario. Ed è tornata scegliendo il palco dell'Ariston, per la prima volta a Sanremo, e con un'altra ballad, Fino a qui, con cui ha ottenuto un dignitoso non opposto, avrebbe meritato di più. Niente trappa, nessun stravolgimento. Fino a qui avrebbe potuto essere tranquillamente una canzone di 15 anni fa. Forse all'epoca l'avrebbe gridata di più o sarebbe risultata calante. Adesso no. Ormai Alessandra ha raggiunto una consapevolezza vocale e personale molto chiara. Ma anche estetica, elegante, raffinata, anche femminile, ma non per questo volgare. Mai ha ceduto, come talvolta fanno in modo eccessivo colleghi e colleghe, le ha movimenti equivocabili, vestiti eccessivi né al gossip più becero, di lei si sa semplicemente che attualmente è fidanzata con un uomo che si chiama Valerio Pastore. Senza voler risultare bigotti, ormai sembra che per cantare ci si debba necessariamente spogliare. E che, più semplicemente, bisogna essere un personaggio, far parlare di sé. Prima la personalità, il carattere, poi forse la voce, in ultima battuta all'intonazione. Invece Alessandra Amoroso è sempre stata la ragazza della porta accanto, facendo affidamento su un timbro vocale così particolare che sarebbe stato difficile non decollare. Alti e bassi, certo, come tutti. Ma un filo rosso che le ha permesso di essere, non c'è ombra di dubbio, una delle cantanti migliori del panorama musicale italiano, riscoprendosi anche interprete di Tormentoni, comunque andare, karaoke, mambo salentino, senza mai risultare fuori luogo. Allora buon compleanno Alessandra Amoroso, stella di Amici di Maria De Filippi, simbolo di quella musica pop dolare di cui si sente sempre più bisogno.